Fidel Castro compie oggi 85 anni, l'ex leader Maximo si è ritirato totalmente dal potere per ragioni di salute lasciando le redini al fratello Raul che ha appena compiuto 80 anni. Oggi sono previsti diversi eventi per celebrare il compleanno a Lavana ma la partecipazione del festeggiato non è confermata.